Musica Buonasera e benvenuti all'edizione pordenonese del telegiornale di Telefriuli. Partiamo dall'economia. È stato pubblicato il bando di gara per l'acquisizione della Safop e un'azienda friulana ha già depositato la propria offerta. In pista ha anche un gruppo indiano. È stato pubblicato oggi il bando di gara per l'acquisizione della Safop ed è già stata depositata un'offerta. Il documento prevede una base d'asta di 1,6 milioni di euro, ovvero il valore della perizia di stima, una cauzione del 10% per partecipare, pagamento a 30 giorni dalla giudicazione e l'assunzione di almeno 15 persone al momento della ripartenza. L'asta si terrà l'11 settembre e i partecipanti alla gara avranno 33 giorni di tempo per presentare la propria offerta. Come accennato, un acquirente, un'azienda friulana, ha già avanzato la sua proposta versando la cauzione di 160 mila euro. Intanto, per l'acquisizione della Safop è sceso in pista anche un gruppo indiano, HYT Engineering, che opera nello stesso settore dell'azienda della Comina che produce macchine per torni a ruota per ferrovie metropolitane, detenendo il 90% del mercato nel subcontinente asiatico. Il gruppo indiano, spiega Cristiano Danelon, della FIOM CGL, vuole espandersi in Europa e per questo motivo giudica particolarmente appetibile la Safop da acquisire in blocco. In particolare, continuano i sindacati che oggi si sono incontrati con il possibile acquirente, è interessato ai torni con i quali fare alberi, motore per navi e le valvole per impianti idraulici. L'azienda indiana, che conta 700 dipendenti ed è in forte crescita, sarà di nuovo a Pordenone a fine agosto per ulteriori approfondimenti. Lunedì alle 12, infine, sindacati e rappresentanti degli industriali saranno a Roma al Mise per sottoscrivere l'accordo che garantirà ai 68 dipendenti la cassa integrazione della durata di un anno a partire dal giorno della dichiarazione di autofallimento. Passiamo al tema delle infrastrutture. La Giunta regionale ha stanziato oltre 300 mila euro per due studi di fattibilità riguardanti la Sequals Gemona e la Gronda Nord di Pordenone. Il collegamento Sequals Gemona e il tracciato della Gronda Nord di Pordenone saranno oggetto di due studi di fattibilità che la Regione ha deciso di affidare per un importo complessivo di 378 mila euro. Lo ha reso noto l'assessore alle infrastrutture e territorio del Friuli Venezia Giulia Graziano Pizzimenti al termine della seduta odierna della Giunta regionale che ha approvato le finalità degli studi e stanziato i finanziamenti. L'importo più cospicuo 292 mila euro riguarda il collegamento Sequals Gemona. Sono quasi 300 mila euro per lo studio della Cimpello Sequals è una viabilità molto richiesta dal territorio io ho dato mandato agli uffici di far fare uno studio che sia aperto a tutte le possibilità tra retratali regionali autostrade quello che serve per trovare una soluzione a quella trasversalità longitudinale del Friuli Venezia Giulia che collega appunto la parte est ovest del nostro territorio. Altri 86 mila euro poi sono stati stanziati per lo studio sul collegamento della Ponte Banna con il tracciato della prevista Gronda Nord di Pordenone che insieme alla 28 e la circonvallazione sud di Pordenone costituirà il sistema tangenziale dell'area pordenonese. Anche questo è il completamento di una viabilità che sta già arrivando ed è fondamentale il sottopasso e la variante di Lignano quindi su questo andiamo a completare un intervento fondamentale per la viabilità del nostro territorio. Sono due studi ovviamente come tutti ci vuole un po' di mesi per trovare soluzioni però su questo almeno andiamo a discutere su un qualcosa di concreto. L'attività svolta dal San Giovanni dei Battuti non è in discussione e le sue nuove tecnologie a servizio dell'intero territorio si inseriscono nella logica di collaborazione tra strutture hub e spoke previste dal disegno della riforma della sanità. Lo ha detto il vice governatore della regione Riccardo Riccardi oggi a Spilimbergo durante la cerimonia di inaugurazione della nuova TAC a 64 livelli il cui costo si aggira attorno ai 350 mila euro in grado di compiere l'esame riducendo di molto le radiazioni con ripercussioni positive sui pazienti macchinari come questo ha concluso il vicepresidente regionale consentono di dare risposta a livello territoriale sgravando gli hub da una parte di attività a bassa complessità permettendogli di concentrarsi sulle casistiche più complesse e sulle urgenze. Veniamo alla cronaca ieri sera i caribinieri di Aviano hanno arrestato un 36enne della zona l'uomo già condannato a tre mesi di reclusione per violenza resistenza e oltraggio pubblico ufficiale era in libertà vigilata ma ha più volte violato le prescrizioni oltre a presentarsi in orari diversi da quelli previsti per la firma in caserma il 15 luglio sotto l'effetto dell'alcol è entrato nella sede dei servizi sociali di Aviano che si occupano della tutela dei suoi figli minori offendendo minacciando i dipendenti presenti che spaventati si sono chiusi in ufficio attendendo l'intervento dei carabinieri l'uomo finirà di scontare la pena in prigione restiamo ad Aviano oggi davanti alla base USAF si è tenuto il sit-in per ricordare le vittime delle atomiche sganciate 74 anni fa su Hiroshima e Nagasaki tante persone sotto i colori della bandiera della pace si sono date appuntamento oggi per il sit-in davanti alla base USAF di Aviano in memoria di Hiroshima e Nagasaki le due città giapponesi colpite dall'aeronautica statunitense con armi nucleari rispettivamente il 6 e il 9 agosto del 1945 una presenza importante che si ripete ogni anno da un quarto di secolo per testimoniare la volontà di avere un futuro di pace è importante e doveroso vivere la memoria io uso questo termine vivere la memoria perché non basta fare memoria le due date sono una memoria tragica 140.000 persone subito uccise a Hiroshima 70.000 a Nagasaki e poi le decine di migliaia che morirono gli anni seguenti il salto un salto terribile della violenza umana dell'uomo contro l'uomo la strada per il bando delle armi nucleari è però ancora lunga non è una strada facile perché poi è legata anche alla questione economica ai profitti e una ricchezza che è macchiata del sangue di tanti che poi dalle armi vengono uccisi all'iniziativa hanno aderito beati costruttori di pace centrobalducci emergency ampi bilanci di giustizia e anche i giovani del comitato Friday for Future di Pordenone questo movimento dei giovani che riguarda l'ambiente è uno dei segni ritengo più importanti di questo momento storico c'è un però che non significa sminuire questa grande potenzialità il però diventa un impegno etico perché la politica non assume come dovrebbe queste grandi questioni la questione della pace delle armi pare che sia scomparsa dall'agenda della politica non se ne parla sentiamo le voci di chi ha partecipato al sit-in la scorsa settimana ci siamo occupati di ripulire la città oggi siamo qui per anche denunciare il fatto di come gli armamenti nucleari causino danni non solo alle persone ma anche all'ambiente e sono moltissimi danni da qui da 70 anni a questa parte si continuano a fare test nucleari che passano in sordina e causano danni indescrivibili alla terra credo che l'atomica faccia male a tutti e se in questo momento siamo tutti molto preoccupati per la capacità della terra di tenere la vita di tutti quanti se continuiamo ad andare per la nostra strada producendo tutti i strumenti di morte a questi livelli io credo che l'indirizzo la modalità con cui continuiamo ad andare avanti ad occhi chiusi trascurri la realtà più grande ma chi è che desidera per i propri figli la morte? Personalmente ci vengo da tantissimi anni quest'anno sono orgoglioso di venire portando la fascia di sindaco perché riteniamo che la guerra non sia mai una soluzione dei problemi e che sia il tempo di ritornare all'autentica politica i tempi che viviamo sono molto difficili ma questi incontri come quello di oggi di fronte alla base USAF ci aprono la speranza sono qua sono qua per una testimonianza personale innanzitutto perché credo profondamente che questa parola pace e tutto il valore che questa parola contiene sia fondamentale da pronunciare oggi ad alta voce in una epoca civile politica e militare in cui chi ci governa e chi muove il potere fa di tutto per tenerci nella paura e tenerci in conflitto costante gli uni contro gli altri sono qui a testimoniare che queste cose non avvengano più queste stragi queste bombe micidiali che distruggono non solo l'uomo ma anche tutta la natura andiamo in città il comune di Pordenone ha fatto partire diversi cantieri per la sistemazione delle scuole partiti a Pordenone i lavori estivi di sistemazione di numerose scuole gestite dal comune cioè asili elementari e medie diversi gli interventi tra tinteggiature risanamenti murari ricolificazione degli impianti e nuove aule informatiche i lavori si inquadrano in un piano pluriannale di investimenti sull'edilizia scolastica e noi continuiamo continuiamo su questa strada per almeno due ragioni la prima è che chiunque varrà dopo di me non deve trovarsi nelle condizioni come mi sono trovato io che ho ereditato una situazione veramente grave in cui le scuole mancavano di manutenzione di tinteggiatura di rifacimento degli impianti dell'antisismica e quindi chiunque venga dopo di me deve trovare un patrimonio in cui sia sufficiente fare delle manutenzioni ordinarie per ragioni di costi la seconda ragione che è importantissima è quella che noi dobbiamo fare in modo che questi luoghi che sono luoghi sensibili siano adeguate alle aspettative alle esigenze dei docenti dei professori degli insegnanti degli alunni dei ragazzi e ovviamente anche dei genitori quest'estate le riqualificazioni coinvolgono le primarie da Vinci Rosmini Grigoletti gli asili di via Capuccini via Mantegna via Le Libertà e via Le Martelli interventi anche le medie lozere al nido l'aquilone il comune è comunque intenzionato a proseguire il piano investimento quindi siamo orgogliosi di aver investito parecchi milioni di euro su questi interventi altri investiremo nei prossimi due anni per consentire di raggiungere livelli assolutamente di eccellenza e nel capoluogo è stato aperto anche il cantiere per la nuova ciclabile di via Mantegna Pordenone città a misura di bicicletta è uno degli obiettivi dei tanti cantieri aperti quest'estate in città un nuovo pezzo dell'ampia rete ciclabile sorgerà in via Mantegna a Borgomeduna dove i lavori sono in corso questo è un altro pezzo di realizzazione della ciclabilità all'interno di Pordenone noi stiamo sviluppando una serie di progetti per consentire sicuramente di rendere la città più bella e più moderna ma anche di consentire a pedoni ciclisti di poter muoversi in sicurezza questo tratto studente del consorzio universitario consorzio che tra l'altro sta avendo numeri crescenti di studenti e conseguentemente è indispensabile a illustrare i lavori è l'assessore ammirante è una ciclabile che collega direttamente il centro città e la stazione ferroviaria con il polo universitario un piccolo tassello che consente anche al quartiere di Borgomeduna di avere una ciclabile dedicata per poter entrare in città l'intervento non riguarda solo la ciclabile di via Mantegna la pista continua via Canaletto dove verrà sistemato anche in modo da poter rallentare i veicoli e renderlo più sicuro per pedoni e biciclette l'incrocio proprio tra via Canaletto e via Mantegna i lavori si concludono all'altezza della rotatoria di Borgomeduna prossimamente verranno eseguite anche nuove sistemazioni stradali il quartiere però attende anche da lungo tempo la riasfaltatura di queste strade e con il binancio abbiamo già le poste messe a disposizione appena sarà possibile provvederemo anche all'asfaltatura di questo tratto il nostro telegiornale termina qui vi diamo appuntamento al 19 agosto sempre alle 20.45 vi lascio in compagnia di Telefriuli Estate grazie di essere stati con noi e buona serata a e buona serata a a Grazie a tutti.